Diretta a chiocciolarbe.it è la mail che potete utilizzare se volete mettervi in contatto con la redazione di Radio Beckwith e noi continuiamo la nostra diretta in trasferta a Torre Pellice, non siamo nel nostro studio a Villa Olanda ma siamo nel giardino della Casa Valdese di Torre Pellice dove appunto si sta svolgendo il Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste. Il tema delle migrazioni e l'impegno che le Chiese Evangeliche e tra queste anche la Chiesa Valdese hanno dato in questi anni sul tema delle migrazioni e dell'accoglienza e dell'integrazione è un tema che torna ogni anno in qualche modo, ecco, trasversalmente se ne parla se non in modo proprio specifico e noi anche quest'anno insomma vogliamo tornarci su. è uno di quei temi che secondo noi vale la pena trattare anche al di là, diciamo, dei fatti di cronaca che riempiono le pagine dei giornali per una settimana e qualche giorno e poi però spariscono. Non spariscono però le persone che continuano a spostarsi e non spariscono i nomi, le storie di coloro che perdono la vita e bisogna ricordarlo questo. E noi ne parliamo volentieri insieme a Marta Bernardini, coordinatrice del progetto, del programma Rifugiati e Migranti della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, con me anche Sara Turn della redazione di Riforma. Marta, bentornata, ci fa piacere ospitarti ogni anno qua in Voce delle Chiese. Grazie a voi, è sempre un piacere. Allora, i presidi che MH, che la Federazione Mediterranean Hope, che la Federazione Chiese Evangeliche in Italia ha, sono tanti, le frontiere sono tante, non c'è solo Lampedusa. Ricordiamolo brevemente ai nostri ascoltatori. Sì, il progetto delle Chiese Evangeliche inizia a Lampedusa, che è proprio il luogo simbolico, ma anche reale, della nostra frontiera Italia, ma anche frontiera Europa. E poi nel tempo il nostro lavoro si sposta in altri luoghi molto significativi. Quindi siamo in Sicilia, Scicli, dove abbiamo una casa di accoglienza per persone vulnerabili. Poi siamo in Calabria, in un progetto che si occupa dei lavoratori braccianti. Poi siamo in Libano, con il nostro team dei corridoi umanitari, che non partono solo dal Libano, ma è uno dei luoghi in cui noi siamo. Poi siamo in Bosnia, lungo la rotta balcanica. E infine siamo a Roma, dove c'è il nostro ufficio centrale. Ma come dicevi, le frontiere sono tante e anche più vicine di quanto immaginiamo. Sì, e sono in evoluzione sovente. Quindi, insomma, purtroppo la precarietà anche dell'attualità che viviamo porta a creare anche delle frontiere che magari qualche mese prima non c'erano. Il lavoro che fate è un lavoro di rete, in collaborazione con altri organismi. E questo è importante, fondamentale, anche perché da soli, lo diciamo sovente, non si andrebbe molto lontano. Sì, da sempre il nostro lavoro si è proprio impostato come quello di collaborare con i territori nel quale operiamo. Quindi non solo portare delle idee, dei progetti, ma farlo insieme a quel territorio, rispettando la storia di quel territorio e costruendo insieme anche il lavoro. E questo lo facciamo con la società civile, con altri progetti sociali, culturali, con altre chiese. Quindi sono spessissimo progetti anche ecumenici, tra tutti penso a Lampedusa, con le istituzioni. Quindi per noi è sempre un lavoro di condivisione, anche un po' per unire le forze. Soprattutto negli ultimi tempi ce n'è particolarmente bisogno. Sara? Sì, un progetto che potremmo citare, visto che diciamo che ci avviciniamo alla data, anche se manca un paio di mesi, è quello del Rosarno Film Festival. Ci avviciniamo alla seconda edizione, possiamo ricordare un po' di che cosa si tratta e qual è la particolarità di questa iniziativa? Sono più o meno un paio d'anni che operiamo anche in Calabria, in questa area, la Piana di Gioia Tauro, che è un'area in realtà di forte ingiustizia, perché si trovano tantissimi lavoratori braccianti che sono proprio al limite dello sfruttamento e raccolgono principalmente prodotti grumicoli, quindi arance, le arance che noi vediamo nelle nostre tavole. Sono persone che spesso vivono nell'illegalità o meglio illegalizzati, quindi non gli viene concesso un contratto di lavoro regolare, ben retribuito. E quindi sono un po' di anni che noi lavoriamo in quella Piana e da un paio d'anni abbiamo aperto uno stello sociale e abbiamo iniziato anche a cercare di sviluppare delle azioni sociali ma anche culturali. Quindi l'anno scorso nasce quest'idea di questo festival per raccontare la storia dello sfruttamento, quindi con diversi corti arrivati da diverse parti d'Italia e con una giuria in realtà di braccianti che possono essere anche un po' protagonisti, non solo raccontati ma che abbiano anche uno spazio. Quindi quest'anno, molto felici di avere una seconda edizione, perché la prima ha avuto un discreto successo e il tema un po' di quest'anno sarà la terra, lo sfruttamento della terra, i movimenti di riappropriazione e difesa della terra e quindi insomma ci piaceva anche non parlare solo di sfruttamento e disuguaglianza ma anche di tutti quei movimenti invece di resistenza. Ecco, quindi questo sarà il tema di questo nuovo film festival quest'anno. Che sarà ad ottobre, giusto? Sarà verso fine ottobre, sì. E tra l'altro l'ostello a cui facevi riferimento, il Dambesol si sta ampliando, sta ottenendo anche in questo caso un sacco di riscontri positivi e questo ci fa molto piacere. Marta, uno dei temi di quest'anno e l'abbiamo sentito anche ieri sera durante la serata pubblica è il tema delle donne, quindi la resilienza delle donne e la presenza delle donne. E ieri sera ricordava giustamente Asmeda Shan, scrittrice, attivista, giornalista, che le guerre non sono solo là dove ci sono i fucili, ci sono i combattimenti. Le guerre sono anche là dove ci sono violenze domestiche, dove ci sono problemi legati alla natura che sta cambiando, là dove ci sono incertezze a livello politico. Non per forza, ecco. Quindi la guerra è quella che abbiamo in mente con appunto gli episodi di violenza più eclatanti e poi parlava degli spostamenti delle donne, della resilienza delle donne. Volevo chiederti, ecco, rispetto alla sfera femminile, alle migrazioni delle donne, cosa avete potuto notare? Quali sono magari le esigenze principali che avete riscontrato nelle donne che migrano? Sicuramente il tema della violenza è un tema molto importante. Io parlerei specificatamente di violenza della frontiera, quindi c'è questa forma strutturale di violenza verso quelle persone che attraversano i confini, che sono confini ovviamente geopolitici, ma sono anche dei confini simbolici, cioè tutte quelle persone che osano andare oltre quei luoghi dove sono state confinate. Quindi c'è una parte di mondo che è libera di spostarsi e un'altra parte a cui così arbitrariamente viene impedito di farlo. Allora queste persone attraversando queste frontiere mettono in discussione questi limiti politici che gli vengono imposti e qui io vedo più che una resilienza a me piace parlare di resistenza, cioè un atto politico di attraversamento delle frontiere e le donne ne fanno parte. Quindi la migrazione femminile che negli ultimi anni è cresciuta molto, sia di donne sole, che di donne con figlie e figlie, sia di donne minori, sono persone che agiscono una scelta e quindi non sono vittime. Ecco, spesso l'immagine della donna è per forza quella della vulnerabilità della vittima. A volte serve avere l'immagine della vulnerabilità per poterla fare accedere al sistema di accoglienza o per sopportarla più facilmente, ma per me sono attrici politiche che sono protagoniste della loro storia e si stanno cercando di autodeterminare. E io ho visto tantissime donne in piedi al molo di Lampedusa, quindi sicuramente piegate dalla fatica, dalla stanchezza, ma non dal fatto che hanno il diritto come altre persone di potersi autodeterminare. E quindi a me piace ricordare questo aspetto della migrazione femminile che è sempre più importante. Ecco, parlando di Lampedusa, di persone che cercano di attraversare questa frontiera e a volte non ce la fanno purtroppo. 3 ottobre 2013, 3 ottobre 2023. Sono passati dieci anni e immagino che abbiate un programma in mente per celebrare, è una parola brutta, ma per ricordare questo anniversario e anche tutte le morti che ci sono state purtroppo da quell'anno. Sì, quest'anno è il decennale del 3 ottobre 2013. Fa un po' impressione pensare che sono passati dieci anni perché quello che è successo un po' dopo quel 3 ottobre 2013 è stato anche dire mai più morti nel nostro mare, mai più persone che non riescono a raggiungere vive le coste del nostro bellissimo paese, politici che arrivarono, operazioni anche di soccorso. Ricordiamo che poco dopo nacque l'operazione Mare Nostrum, quindi la possibilità di soccorrere a livello proprio statale le persone che attraversavano i confini in posti del Mediterraneo, la frontiera più pericolosa al mondo, ricordiamolo. Dopo dieci anni cosa possiamo ancora dire? Possiamo ancora dire che tantissime persone continuano a perdere la vita nel Mediterraneo, significa che sono ancora costrette ad attraversarlo, che non ci sono sufficienti vie legali di accesso, che le politiche sono diventate ancora più restrittive, che un tempo chi salvava il mare era visto come un eroe o comunque una persona che stava facendo qualcosa di civilmente corretto, di giusto, di legale e oggi viene visto come quasi un criminale e quindi si è tutto molto inasprito in questi dieci anni, ma la nostra voce in quel momento di commemorazione è una voce protestante per dire che la memoria è viva e quindi non siamo solo lì a piangere chi non c'è più, ma ricordare che noi abbiamo una responsabilità politica verso queste persone e ci facciamo carico di questa colpa e di questa responsabilità. Quindi un po' per noi il 3 ottobre è un momento in cui anche in modo concitato dire che abbiamo delle responsabilità e dei doveri rispetto alle persone che continuano a attraversare il nostro mare. Grazie Marta per essere stata con noi, Marta Bernardini, coordinatrice del programma Rifugiati e Migranti della Federazione Chiese Evangeliche. Grazie a Sara che ci hai accompagnato in questa chiacchierata insieme a Marta. Migrazioni, un tema ricorrente, un tema importante e forse a volte strumentalizzato, ecco, a seconda di quello che fa più comodo mentre sarebbe importante imparare a gestire questo tema, questo ambito in modo molto più responsabile, come dicevamo. Grazie, buon lavoro. Grazie.